lui vuole essere dato un aiuto o essere ricordato perché lui non si ricorda la sua infanzia perché lui è stato sempre da solo a casa non voleva andare a scuola non voleva fare le cose come fa a trovare gli amici? ma se non si aggrazza chi le trova? ma lui non si arrabbia lui vuole essere spiegato e poi ci sono messe queste cose per te dire non dimenticarti che due giorni alla metà ero messe mi porti non è che fai come altre volte che dici ti porto e poi non ti porto guarda il voto o perché non ti rimane a scuola o perché non ti rimane a scuola o perché non ti rimane a scuola ok però ora c'è proprio che stiamo indotto e indotto ci ho detto però è sempre quando ci ho detto che si chi lo ha allora ci dobbiamo far far fare ci dobbiamo dare fiducia a lui se a dici siamo fiducia ci mi dice che questo giorno e ti dice andiamo ma se si parla con noi come si può più dare fiducia? ha parlato con me, che papà fa bene mamma, mamma, ho il bene cammero, e come andiamo bene? si chiede Gianluca che vuole s'ingarzi per farci da dire non si arrabbia perchè lo vuole attaccare no, poi ci dice guarda stai sbagliando stai facendo un errore ti stai agrabbiando, stai rompendo le cose ti stai facendo male ma non è bello così perchè tu sei un uomo allora lui è un uomo prima era piccolino prima era bambino poi è cresciuto tutti quanti erano bambino sei andato in bambino sei trovato alla fidanzata mi sono sposato ho la casa ho i cognati tu giochi, Gianluca gioca solo lui si arrabbia non esiste un ragazzo che non si arrabbia e lui non ha fiducia degli altri tutti i ragazzi giocano fanno lavoro per sole lui non ha fiducia degli altri perchè lui non è stato mai in mezzo agli altri perchè essi lo puoi scendere lo puoi scendere con Gianluca lo puoi scendere con Gianluca lo puoi scendere con Gianluca lo puoi scendere con Francesca come? perchè lui è grande lui man mano ha fiducia degli altri perchè lui non ha fiducia non lo puoi scendere con Gianluca dobbiamo farci capire devi avere fiducia di mamma, babbo, di Gino di tutti quanti si si fanno gullate e scendere trovi che la ragazza sono gli amici trovi un po' camminerà solo ma si vanno un po' corso l'anno prossimo si fa ancora più grande e si rilazza come ho fatto l'annamorato? sai che fanno i guaglioli? perchè io quando ho conosciuto a te io mi arrabbiavo facevo aaaah giocavamo? e anche lui devi giocare con la fidanzata con gli amici devi uscire la moglie dell'estate se lo guardano al mare da sola va male di fronte ci sta il mare no qui io sono male io ho la casa c'hanno c'hanno sull'istra si mettono a asciugare le coppie spalle come fanno tutti qua giù c'hanno 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 in fronte e non va male sull'istra o sai quando i guaglioli stanno la coppia si stanno pazzi no ma la stanno si stanno la coppia e poi i guaglioli sono finito qua no quando mai via via no poi siamo pure in carabinieri c'è pure un po' e poi questo giro e poi lo rendo con il legge e dopo lo rendo con il legge no 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 deve stare con noi con gli amici con noi però se sei ragazzo lo giuro noi sono pazzi ma lui non è pazzo? lui è un ragazzo normale però si arrabbia si arrabbia perché lui non ha fiducia degli altri lui man mano piano piano ha fiducia degli altri ha fiducia di uno e di un altro man mano lui deve dare fiducia alle altre persone perché se tu dà fiducia alle altre persone lui riesce a trovare fidanzata non è più grande come il gomme più grande come il gomme più grande come il gomme più grande ma il gomme è 15 anni e il gomme è 19 anni e il gomme è grande ma può uscire sull'istre si esce da solo con gli amici ma se sei ragazzo agendo o vattene pure si si in mezzo alla strada le persone e i carabinini non possono sparare? agendo o vattene? come si? o vattene 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 allora parliamo di più eh certo no mi vado a buvera poi è venuto ci ha girato è venuto ci ha girato prima a piazzare poi amendo buvera accattiamo tutto quello che ha accattato poi amendo gioco senza cazzare tu fai video parliamo parliamo e il nome degli animali giàguaro si chiama lino giù giàguaro si chiama lino giù lino è il nome degli animali perché a lui ci piacciono gli animali bandera nera poi usciamo dallo zoo bandera nera andiamo a casa bandera nera dove è uscito a casa? bandera nera bandera nera bandera nera si chiama? francesco g francesco g e il cognome? g francesco g c'è poi quindi andiamo a casa e poi la sera Gianluca Carmela Anna Jane tutti quanti alle dell'anti e troviamo innamorata spazzetti questo è innamorata si innamora invece se si innamora e poi non ci fu e poi ci sta innamorata dove sta innamorata e scappata ha avuto paura e invece se si gioca e non si innamora più capito? si ho capito e che stai? lui non si arrabbia si si non si innamora più comunque la trova ma non si innamora più no ma si si arrabbia ma va di riscermi di trovare ma perché si mi arrabbiavi tutti tu mi uscivi a me no io ti mandavo a favore e lui diceva via 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 invece noi giochiamo ci vediamo bene come Gigi con la fidanzata poi si innamorano si vedono bene si mettono su letta a vedere dei film perché perché oramai sei fatto grande e non è più come Antonia piccolina pensa pure Antonia piccolina già cambia Antonia perché è bello quando uno ride gioca come facciamo tutti con il telefono in oggi vedete Google vedete Google vedete Google eh telefono in ma vedete Google eh 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 Google ferma Google fermate Google as vedete lì ci ci attacchi a che tu la quello fa la